Ciao ragazzi come state? Scusate se ieri non abbiamo messo niente ma sapete il materiale che arriva è sempre tanto quindi il tempo di montare tutto si perde il tempo poi ci fanno divertire le nostre ragazze quindi sicuramente vedrete che vi divertirete anche voi. Oggi presentiamo Erika, finalmente la nostra Erika ci fa un lungo esercizio di potenziamento con un grandissimo anzi una grandissima ospite quindi guardatelo divertitevi seguiteci sempre perché dovete stare in forma e pronti per quando si rientrerà mi raccomando mandateci tutti i vostri video che fate li mandate nei vostri gruppi perché poi magari li pubblichiamo tutti assieme ok dai divertitevi come al solito esercizi guardatevi gustate di Erika con la sua ospite e mi raccomando pure di stare da casa. Ciao!